State attenti, perché in Giappone potrete essere storcherati da una presenza assai spaventosa che vi perseguiterà per mesi e mesi finché non salderete il vostro debito. Stiamo parlando dell'Uomo NHK. Se hai vissuto in Giappone abbastanza a lungo, ti sarà capitato di imbatterti nell'Uomo NHK. L'NHK è la tv nazionale giapponese ed ogni persona in possesso di una tv è obbligata a pagare. Tuttavia non c'è nessuna multa se non la paghi, quindi molte persone si rifiutano di pagare. E si pone il seguente problema, ma devo pagare questi qui o no? Anni fa l'NHK ha detto che avrebbe portato in tribunale tutti coloro che si rifiutavano di pagare. Quindi sì, tecnicamente dovresti pagare, ma dal momento che ci sono più di un milione di persone che non pagano è difficile che l'NHK possa denunciarti, considerando che non può nemmeno sapere se hai una tv o meno. E poi, scusate, ve lo immaginate portare un milione di persone in tribunale? Il giudice se ne scappa, so via. Se chiedete ai giovani giapponesi, loro probabilmente vi diranno non serve pagare. Se chiedete a delle persone più anziane, magari vi diranno sì, dovete pagare. E se chiedete a Takashi Tachibana, un ex dipendente dell'NHK, ora politico, vi dirà assolutamente no. Tachibana infatti sostiene di conoscere molti lavoratori dell'NHK che lavorano in pratiche losche. Su suo YouTube channel, che vi lasciamo in descrizione, vi darà dei consigli su come liberarsi dell'uomo NHK dicendogli semplicemente di andarsene a qual... di andarsene perché tanto non possono prendere alcuna azione legale contro di voi o chiedergli di vedere la loro business card dal momento che molti non lavorano nemmeno direttamente per l'NHK, ma per filiari. Oppure di dirgli che siete sostenitori del suo partito e che quindi vi rifiutate di pagare. L'amica di Sebastiano, Sadakatsu, li ha cacciati fingendosi una cannibale e chiedendo all'uomo NHK si ha mai provato la carne umana Hannibal Lecter Style. Genia! Genia! Un'alternativa è il dire semplicemente che non avete una TV ma non provate a dirgli che non parlate giapponese. Può funzionare un paio di volte, ma prima o poi vi manderanno un uomo NHK di Gevoluto che sa parlare inglese. N-H-K? Non parlo giapponese. Potete aprire la porta? Un'altra tattica che non funziona è dirgli che avete una TV ma che la usate solo per giocare ai videogiochi. Perché anche solo il fatto che possedete una TV significa che dovete pagare questa tassa. Un fatto che irrita molto i giapponesi, tra cui il famoso Kitano Takeshi che ha pubblicamente detto di non pagare il canone. Dicendo che è sbagliato forzare le persone a pagare per un servizio che magari non useranno mai e che dovrebbero settare le TV in modo che quando le compri puoi scegliere se ricevere o meno le trasmissioni NHK. Anche Sebastiano Serafini ha detto di non pagare il canone NHK considerando il fatto che trasmettono interviste come quella di Musugita con presentatori che ridono assieme a lei di questioni molto delicate e non prendono seriamente alcune tematiche di cui abbiamo già parlato in un altro video. E se non lo avete ancora visto, andate qui. Una piccola nota che vogliamo aggiungere. Può capitare che vengano a suonarti al campanello di casa anche dei truffatori che vogliono solo derubarti fingendosi di essere l'uomo NHK oppure dei poliziotti, degli ufficiali del governo, sterminatori di insetti e così via. Quindi, che dire. Ma pure su ste cose devo avere l'ansia, ma non si può avere una TV in santa pace, non si può vivere in santa pace. Fate attenzione, mi raccomando. Grazie a tutti.